La mia opinione è semplice. Chi è Putin lo sappiamo da tempo, è un signore che per la democrazia non ha nessun affetto e nessuna attenzione. Vuole allargare il suo paese a discapito di tutti quelli che ha intorno o addirittura di quelli con i quali si ha pure faticosamente costruito dei rapporti diplomatici nel corso del tempo. Le sue previsioni relativamente all'Ucraina si sono dimostrate tutte fallimentari e questo diventa un problema drammatico per l'intero mondo, non soltanto per lui e per le sue opinioni di estensione dell'area del suo paese. Non pensava che in Ucraina ci potesse essere una reazione come quella che c'è stata, lo dimostrano i fatti. Una guerra rapida era la sua opinione, risultati immediati che non ci sono stati, non ci saranno. L'Ucraina è una cosa molto diversa, per fortuna, di quella che lui aveva immaginato. Poi lui pensava di poter contare anche su consenso di alcuni paesi europei, quelli con i quali ha avuto rapporti più stretti nel corso di questi anni. Anche questo non c'è stato. Per la prima volta e per fortuna l'Unione Europea si è dimostrata coesa, sia nel definire il carattere dell'invasione terribile della Russia verso l'Ucraina, sia nell'agire ad aiuto dell'Ucraina. La stessa cosa vale per l'Italia, guardate che la reazione isterica di oggi nei confronti del nostro Ministro della Difesa nasce da lì. Non possiamo dimenticarci che qualche settimana fa, metà del Parlamento di questo paese voleva eleggere Presidente della Repubblica, uno dei più grandi amici di Putin. Così non è stato. Non c'era soltanto il candidato amico, c'era anche la presenza in quella maggioranza di partiti che con lui nulla dovrebbero avere a spartire sul piano politico e invece hanno costruito nel corso degli anni dei rapporti anche non sempre trasparenti. Penso ad esempio alla Lega. Infatti, Conferrati, io le volevo chiedere... Ora, di fronte a questo fallimento, cosa fa Putin? Sì, no, prego, prego, finisca, ma su questo vorrei tornare. No, su questo tema dell'inaffidabilità del governo italiano dal punto di vista della neutralità, della possibilità di mediare. Il fatto che Berlusconi, il Presidente di Forza Italia, sia stato uno dei leader politici più vicini obiettivamente a Putin, con il colbacco o senza al governo o all'opposizione, ma insomma uno dei leader più prossimi, il fatto che la Lega sia così strettamente legata, e non parlo soltanto degli interessi economici, non parlo di Savoini, non parlo di questioni, ma parlo di un accordo che esiste ed è stato sottoscritto e tacitamente rinnovato tra il partito di Salvini e il partito di Putin. E il fatto che anche grande parte del Movimento 5 Stelle tuttora abbia delle posizioni di freno e acceleratore su questo, non dimentichiamo che Grillo e Di Maio nel governo giallo-verde votarono a favore di togliere le sanzioni, quindi tutto questo non rende il governo italiano e la destra, il centrodestra italiano strutturalmente filo-putiniano, diciamo così, secondo lei? Il centrodestra italiano è stato nel corso di questi anni filo-putiniano, oggi per fortuna i provvedimenti del governo sono stati, e il giudizio che il governo ha dato nelle vicende che stiamo commentando sono stati univoci, vedremo se questa coesione durerà o se verrà messa in discussione. Il problema è che la mancanza di questi consensi, sia in Italia come negli altri paesi europei che gli erano più vicini, e anche sulla capacità di resistenza e di risposta dell'Ucraina, lo costringono ad andare avanti, lui non è in grado di fermarsi, sono fole quelle che vengono raccontate sul come fare un accordo. L'accordo ci sarà secondo me purtroppo soltanto se la Russia non sarà più in grado di procedere con questa insensata, drammatica e vergognosa guerra. Allora servono due cose, la prima è aiutare la resistenza, la seconda è rafforzare gli elementi di unità che nella sfera politica si sono forse inaspettatamente realizzati. flash di Cardini su questo...